La Questura di Caltanissetta ha condiviso l'appello contro l'abbandono degli animali lanciato a livello nazionale dalla Polizia di Stato. Con l'approssimarsi della stagione delle vacanze, infatti, aumenta il rischio dei casi di abbandono di tanti quattro zampe sulle strade. La Questura fa notare che se non è possibile portare i propri animali in vacanza è bene lasciarli a persone di fiducia o nelle strutture a loro destinate. Se l'animale domestico viaggia in auto con la famiglia deve essere collocato nell'apposita gabbio trasportino o nel vano posteriore con una barriera divisoria. Secondo alcune indagini statistiche diffuse dalla Lega Antivivisezione, ogni anno vengono abbandonati fino a 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell'80% dei quali rischia di morire in incidenti, distenti o a causa di maltrattamenti. La Polizia ricorda, tra l'altro, che l'abbandono di animali è un reato punito con l'arresto fino a un anno con una multa fino a 10.000 euro. Nel codice penale ha inserito anche il reato di uccisione di animali che è punito con pene comprese tra i quattro mesi e i due anni.